è quasi tutto pronto per l'inaugurazione di questa sera la mostra social telling power by mauriglio brini e luca scotto di carlo un modo di dire viva le connessioni viva l'essere umano i social ok ma la vita forse è un'altra cosa come scoprirete visitandola stiamo stiamo attaccando tutte le tutte le stampe perché questa sera alle sei e mezza inizieremo mostra ma esposizione come l'abbiamo chiamata luca che lo vi ricordo perché lui è più bravo gli ha dato significato io in realtà da anni fotografo le persone amici non amici persone famose che incontro nel mio lavoro così perché per me ogni persona è importante ogni persona ha una sua unicità ma che cosa ha fatto luca anzitutto sono rimasto sbigottito dalla quantità della libreria di foto che aveva mauriglio tutti quanti a contatto con un sacco di persone famose non famose chiunque secondo il suo motto everybody's famous che poi usa nei suoi corsi seminari e tutto tutte le figate che fa ma quello che abbiamo pensato è che lui aveva questa espressione sempre un po nei riguardi della persona di fianco come dire guardate come chi è questo qua capito anche se era uno sconosciuto allora quello che mi ha sorpreso e allora io ho scritto una piccola biografia è un nome finto completamente inventato che va un po dietro anche un po le tendenze del social dove non basta più la rappresentazione ma ci vuole anche un po la storia cioè la storia con la foto devono matchare per avere un significato qui è tutto inventato ha fatto tutto lui ha fatto tutto lui io mi sono semplicemente divertito a inondarlo di fotografie che ho fatto in tutto questo periodo della mia vita prima di dare corpo alle danze insomma e di brindare a questa mostra che invitiamo tutti a venire a vedere perché è veramente divertente che dura solo oggi perché ci sono i temporali flagship c'è di tutto che nasce pop up questa è veramente una pop up una temporary exhibition si dura solamente tre ore esatto che non ha pretese artistiche come possono fare anche altre persone nel nostro settore Giuseppe Mastromatteo Giordano Curreri che hanno comunque una vena artistica di un certo tipo sono bravi noi l'abbiamo messa un po più sul far passare un certo tipo di messaggio e sull'ironia naturalmente però adesso io vengo qui in mezzo a voi perché voglio chiedervi una cosa è vero ironia è vero tutto un gioco ma c'è un messaggio profondo il messaggio è che sicuramente i social sono diventati un po' come dicono larger than life per cui comunque si tende sempre a mettere più informazioni in ogni pezzo che io pubblico sui social una volta era soltanto rappresentativo adesso secondo me c'è proprio un'interpretazione che cerchi di dare e di aggiungere sempre altri pezzi al tuo brand perché poi tutte le persone sono un po' dei brand sui social no? e quindi insomma il cerchio si chiude perché la comunicazione c'entra ma la cosa che mi colpisce di questo divertimento che è nato in spiaggia che è nato in spiaggia per divertirsi è che veramente abbiamo il desiderio di far sorridere le persone e la cosa molto bella è che per ogni persona tu hai scritto delle cose cioè secondo me neanche loro si valutano così io ne sono certo confermo perché io ti sono Lazzara Manicozzo è una bellissima storia mi piace perché poi ho cercato di calzarla addosso alle persone come il mio caro amico Lorenzo Marini l'abbiamo chiamato Sir Almond Fitzroy Lorenzo ti aspettiamo e allora insomma tra pochissimo anzi vi saluto perché mi sa che voi dovete finire le ultime cose e poi uno dei complimenti forse più belli che ci ha fatto una persona che l'ha vista ma le ha fatte l'intelligenza artificiale e questo devo dire che ci suona bene e invece cosa diciamo? no dell'intelligenza reale del divertimento a tra pochissimo allora e prima di andarcene e lasciare insomma spazio all'inizio della serata in realtà non potevamo che fare anche un punto di riferimento sul luogo perché anche il luogo parla di connessioni sì, Cyro Kitchens è un food collective che prende vita in questo spazio a Milano in zona 5 giornate e sostanzialmente è una food court che riunisce sei dei migliori brand indipendenti della ristorazione indipendente e abbiamo quattro postazioni di cucina che ospitano dei brand dello street food abbiamo una sala centrale che ospita una caffetteria specialty di giorno e la sera un wine bar di vini naturali e praticamente questi sei brand vivono e collaborano sotto lo stesso tetto e vendono in una food court che ospita una crescente community di appassionati del mondo del cibo e non